Ecco cosa succede se uccidi questa tartaruga gigante Quindi una volta uccisa sta tartaruga Qui che è la posizione esatta dove trovarla Quindi adesso l'ammazziamo, adesso parliamo con lui Ok, 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 dando salto Ecco che l'ammazzo Bene Mi ha dato un globo, il globo di Miriel Miriel E adesso andiamo alla tavola redotta E la diamo a quei due scheletri Quindi abbiamo la stregoneria e qualche incantesimo Quindi in tutto ci darà tre incantesimi Quindi grazie a tutti per questa visione Ragazzi un breve video su come trovare questo globo E uccidere tartaruga Ecco che cosa vi da E niente lasciate like sul video che vi è stato utilissimo E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao